Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore 126 e i file dll mancanti nella cartella del gioco o del programma. Io di questo file ben intendo parecchio perché scaricavo e installavo moltissimi programmi e mi dava questo errore. Per risolvere questo errore ho dovuto dare un'eccezione alla cartella e disattivare l'antivirus per scaricare e installare il programma. Quindi per farti un piccolo esempio in questo piccolo tutorial ovviamente se tu vai a scaricare e installare così un gioco l'antivirus te lo blocca e te lo mette in quarantena ed esce anche l'errore 126 perché manca anche il file onlinefix.dll. Quindi cosa fare? Quando vai a scaricare e installare un programma prima di farlo disattiva l'antivirus. Quindi andiamo prima a fare Firewall, Windows Defender Firewall, vai direttamente su impostazioni avanzate, vai su azione, vai su proprietà e qui disattivi lo stato Firewall. L'attivato, metti disattivato, sia profilo privato, profilo pubblico e basta e fai ok. Se non dovesse funzionare possiamo sempre andare sul nostro, la sicurezza di Windows, clicca sullo scudo qua. Protezione da virus e minacce. Gestisci impostazioni. Il mio Windows Defender è collegato a un provider che sarebbe Avast, quindi io vado a disattivare direttamente Avast. Quindi fai controllo protezione di Avast, ovviamente per quelli che hanno un antivirus installato su PC disattivate il vostro antivirus. Disabilitate così l'antivirus, poi andate a scaricare e installare il vostro programma. Una volta che avete scaricato e installato il programma, avete così la cartella con tutti i file dentro e potete avviare il gioco. Però quando andate poi a riavviare il sistema e ritornate poi ad avviare il gioco, l'antivirus lo blocca perché l'antivirus si è attivato. Ok, quindi l'antivirus ha bloccato quei file. Quindi quando hai installato la cartella vai direttamente su Windows Defender, vai su protezione da virus e minacce, vai su gestisci impostazioni e vai su esclusioni. Così metteremo la cartella del gioco o del programma nelle esclusioni. Quindi tu potrai avviare sempre questo gioco o programma a vita senza che l'antivirus ti elimini il file onlinefix.dll. Così facendo non uscirà più l'errore 126. Aggiungi o rimuovi esclusioni. Ed eccolo qua. Io ovviamente in passato ho messo la cartella Sonsoft Forest perché quando sono andato a scaricare e installarla, l'antivirus me l'ha bloccata. Non mi ha fatto giocare online con gli amici. Quindi vai su aggiungi un'esclusione, cartella, vai nel tuo disco e inserisci la cartella del gioco che hai scaricato e installato. Io metto questa qua di Fallout 4. Ed eccola qua. Ora, l'antivirus non farà nulla su queste cartelle. Quindi non disattiverà nessuna cartella o non cancellerà nessun file dentro le cartelle perché le abbiamo messe nelle esclusioni. Per altri problemi ancora puoi sempre entrare nel mio server Discord. Come ho detto io mi rientro di questo file dll e dell'errore 126. Quindi per altri problemi ancora puoi sempre entrare nel mio server Discord. Scrivermi in privato oppure scrivere nel server. E io ti risponderò. Per altri problemi ancora fammelo sapere sotto al video. In alto a destra ci sono altre guide sull'errore 126. Quindi grazie a tutti per questa visione. Se non hai capito puoi sempre riguardare la guida. Grazie per il vostro tempo. Iscriviti, lascia like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.